Franco Tenka, la sua storia è emblematica. Lei nel 2009 ha deciso di lasciare Mandello e di andare a vivere in Bulgaria. Innanzitutto perché? Soprattutto perché qua la vita era molto cara e in Bulgaria diciamo che è al costo del 60% in meno rispetto all'Italia. Faccio il paragone Soppia capitale e Roma capitale. Volevo andare in Brasile, a Portalesa e sono entrato su internet. Brasile, ho detto che era parte che era troppo distante, 14 ore di volo, biglietto aereo. Poi automaticamente sono andato in Bulgaria, ho cominciato a leggere, non è possibile che neanche a 2000 km d'Italia si possa vivere in questa maniera. E all'8 agosto del 2009 ho preso l'aereo e sono andato in Bulgaria, però precedentemente ho trovato su internet la mia futura moglie. Come si vive in Bulgaria? Cosa c'è di bello e cosa c'è di brutto? L'unica cosa di brutto per noi italiani è la lingua perché è cirillica. Uno che solo la vede a leggere gli viene un mal di testa. L'unica cosa brutta è questo. Per il resto è tutto positivo. Come ripeto non c'è delinquenza, nessun'està comunitaria. Gli zingari li obbligano a lavorare, quindi vuol dire che si toglie parecchia malavita dalla strada. E poi dopo i prezzi, faccio un esempio, un litro di benzina là costa un euro. Un'assicurazione di una macchina cilindrata 2000 costa non più di 200 euro. E via discorrendo. Premetto però che un operaio là prende non più di 450 euro al mese. Ma lei si sente una sorta di emigrante economico? No, io mi sento una sorta di emigrante, tra virgolette, cacciato dai politici che ci sono al governo. Ho dovuto per forza andarmene. Se stavo qua andavo a vivere sotto i ponti. E per quanto riguarda emigrante non sono economico perché sono un emigrante di cuore. Sono tornato in Italia perché è giusto, emigrante di cuore sono legalmente ancora sposato, ma legalmente separato con la mia ex moglie e oggi sono qua proprio in tribunale per firmare il divorzio. Cosa dice ai giovani e ai pensionati che vogliono rimanere in Italia? Non posso dire perché direi una brutta parola. Fate voi. Io dico solamente che in Bulgaria dopo sei mesi si ha la pensione lorda, se non si è dipendente statale, perché c'è la Convenzione Italia-Bulgaria firmata a Sofia nel 1991, che prevede che dopo sei mesi in Bulgaria ti puoi iscrivere al fisco bulgaro e poi puoi fare la domanda alla tua INPS per avere la pensione lorda. E sono, ripeto, sono obbligati a dartela. Insomma lei è diventato un miliardario. Beh, diciamo che qui con la mia pensione ero a livello di sottoponti. Là sono un benestante. Io consiglio, come ho fatto io nel 2008 agosto, venire in Bulgaria a fare un sopralluogo, perché la Bulgaria può essere bella ma può anche non piacere. Allora, viene a fare un sopralluogo. Chi vuole venire mi contatta sulla mia e-mail franco-tenca-chiocciola-iao.com oppure su vastap 00359-895-772311. Ma lei proprio non ci pensa nemmeno a ritornare in Italia? Non mi faccia dire una parolaccia, ma non mi passa neanche per l'anticamera dell'anticamera dell'anticamera del cervello a tornare in Italia. Grazie.